la forza vitale cenacolo esperienze guida sconosciuta passando attraverso il regno animale la forza vitale acquisisce il colore dell'esperienza prende forma per fare un esempio possiamo dire che la forza vitale entra nel regno animale prendendo forma in una miriade di girini inizialmente contenuta nelle larve generate dalla rana poi a tempo debito la forza vitale si trasforma in migliaia di girini questi a loro volta nascono per acquisire l'esperienza che colorerà la forza vitale racchiusa in essi è rimasta trasparente come l'acqua fino a quel momento molti girini muoiono all'inizio della propria vita non riuscendo a diventare rane possiamo dire dunque che le unità della forza vitale contenute nei girini ritornano all'anima gruppo quasi prive di colore altri girini invece diventano rane ma hanno vita breve a causa della scarsità di cibo o per altri svariati motivi quando le rane muoiono le unità di forza vitale contenute nelle rane ritornano alla propria anima gruppo avendo acquisito solo il colore di una breve esperienza di malessere o di sofferenza legata alla causa della propria morte altre rane vivono più a lungo a tempo debito entrano in contatto con l'uomo e imparano a temerlo come un tormentatore imparano a fuggire a nascondersi possibilmente per evitare la sua vicinanza le rane muoiono difficilmente di morte naturale ma più probabilmente per la sconsiderata crudeltà degli uomini o per l'assalto di un nemico naturale quale il serpente quando tali unità di forza vitale ritornano alla propria anima gruppo apportano i colori che esprimono la sofferenza nelle sue svariate forme le diverse esperienze di queste unità sono fuse insieme perché le unità non hanno identità separate e fanno tutte parte dell'insieme dell'anima o coscienza di gruppo dopo aver trascorso una o due vite in tale stadio di evoluzione la forza vitale con le proprie esperienze accumulate passa al livello successivo questa volta invece di suddividersi in decine di migliaia di girini si può suddividere per fare un esempio in 10.000 unità di ratti o topi non a caso il ratto nasce già con la paura nei confronti dell'uomo e dei propri nemici naturali ricordate che la forza vitale si è già colorata dell'esperienza della paura acquisita nelle forme di vita precedenti ora in questa nuova forma per una serie di vite la paura continua a crescere nelle unità di forza vitale all'inizio della propria esistenza il ratto impara anche in seguito alle brutte esperienze ad evitare in ogni modo l'essere umano impara a procurarsi il cibo di notte quando l'uomo costituisce una minaccia minore e a volte il ratto riesce a vivere tanto da invecchiare grazie esclusivamente alla propria astuzia e abilità nelle scogitare metodi per evitare i nemici naturali il livello di evoluzione che la forza vitale raggiunge negli animali selvatici è tanto lontano dall'umile verme che occupa i primi gradini della vita nel regno animale quanto il verme è lontano dal mondo delle piante gli animali vivono secondo la legge naturale che consiste nella sopravvivenza del più forte e la nota che li caratterizza è l'autoconservazione i più deboli vengono divorati perciò la paura e la lotta per la sopravvivenza colorano l'esperienza degli animali selvatici dal primo giorno di vita fino alla morte grazie grazie